Stop ai furti nell'area parcheggio di Via Nuova Cotoniere ad Angri. L'amministrazione comunale corre ai ripari dopo il susseguirsi di furti all'interno dell'area sosta. Nei giorni scorsi, infatti, molte vetture erano state prese di mira da malintenzionati che avevano portato via addirittura le borse della spesa. L'amministrazione comunale, di concerto con il comando della Polizia Locale, guidata dal comandante Anna Galasso e con i vertici dell'Angri Ecoservizi, ha disposto un controllo straordinario all'interno di quell'area di parcheggio. Ogni giorno la zona viene presidiata da un addetto alla sosta dell'Angri Ecoservizi. Una presenza che scongiura l'arrivo di malintenzionati. Ma ci sono in programma anche altri interventi. In particolare si pensa a potenziare sia l'illuminazione in quella zona ma anche ad installare telecamere di videosorveglianza. Intanto questi provvedimenti assunti dall'amministrazione godono già del plauso dei commercianti della zona. Effettivamente si è arrivato a un punto qua che, insomma, sai, uno non poteva rimanere nemmeno più la spesa in auto. Però devo dire che come si sono susseguiti le lamentele dei residenti, dei commercianti, il sindaco subito ha provveduto e ha messo uno della sosta, qualcuno della sosta fisso qui nel parcheggio e sono migliorate le cose al 100%. Perché la gente non si fidava più di lasciare qui l'auto. Sì, sì, anche per questo. Un altro problema qua, sai qual è? Che il sindaco ha messo la sosta troppo poco, secondo me. Allora che succede? Che rimangono la macchina dalla mattina fino alla sera. Non c'è più quel riciclo di macchine che si trova il posto. Sai, perché dopo, con 50 centesimi, due ore, allora la gente tre volte ne approfittano pure. Perché casi, non so, mai un bicchiere sempre mezzo pieno e mezzo vuoto. Non è che uno capisce, diciamo... Cioè, questo è un'area parcheggio che a ridosso del centro per i negozianti è fondamentale. Per i negozianti è fondamentale. Bisognerebbe più riciclo, in effetti. Uno va via, uno viene. Essendo che costa poco, vengono da tutte le parti di Angri. La lasciano qui. Con un euro stanno a posto fino alle 4. Allora ecco perché si approfitta e non si capisce, dice, è vero che paghiamo poco, però diamo spazio anche agli altri. Questo non c'è. C'è solo, diciamo, uno approfitta, eccetera. Cosa è un'area parcheggio?